ci seguono anche dalla sotto, guarda, fino alla via tranne gioia e esco a prendermi un capello, sono stante stupro no, non puoi uscire papà vado a prendermi un capello, ciao! dove vai? vado a prendermi un caffè e tanto è tutto chiuso scusi, è aperto il bar? si, prego si può avere un caffè? va bene, grazie 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 QUOI?! Tu t'appelles comment?! JO! NIQUE TA MÈRE JO! VARIANTE! Eh, stop, 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 venons allons faire un autre jeu J'ai un autre jeu pour vous, venez Qui veut gagner un euro? vieni, ho un giù per voi, è super guarda, metto contro il mur non, dal l'autre sens metto contro il mur se il biais tombe, tu as perduto quoi? il serve là? metto contro il mur non, 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 non le premier qui fa tombare il biais a perduto e l'autre recupera tutto l'argent vous êtes prêts? c'è partito c'è tutto la peorna ah, ma tête celui qui part, il l'a perdu aussi ok c'est la parte d'ici, c'est la chaqueronne non, 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 non Grazie a tutti 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 Grazie a tutti